Io ho fatto questo film perché non mi disse dimenticata, perché ci fosse stata veramente e io penso che poi alla fine quando tu mi tirerai da qua o mi dai un pranzo e un'altra figlia, io so che siamo quasi al finale e io vi racconterò cos'è la vita e allora voi capirete perché siete qua e direte, ma non male che sono qua, no, perché sono non voglio parirmi per un toro, però voglio essere qua per un motivo, per una ragione, non solo per parlare di me così in modo autoggettivo. Filippo è il signore che mi ha introdotto, ha ragione quando mi dice che c'è forse troppa frettolosità a sbarazzarsi del passato, ma non soltanto, ma anche a sbarazzarsi delle persone che sono tuttora viventi, con la fretta che se ne vadano, in modo anche poco elegante, perché è giusto che ci siano i giovani, è giusto che ci sia spazio per i giovani, io capisco che ci siamo ancora noi, ci siamo ancora qua, io credo da 77 anni di avere ancora una cosa, forse, no? Piccato diceva ci vogliono molti anni, perché molti, molti anni per diventare giovane, secondo me è vero, per una ragione che vi dirò alla fine, la dimostrazione geometrica del percorso della vita, per cui io credo che le persone anziane in una società siano fondamentali, in tutte le società evolute, vengo questo buio, sono un po' di regole, sono un po' di regole, sono un po' di regole, hanno, in tutte le società evolute hanno considerato le persone sagge, che non erano considerate i vecchi, ma le persone sagge, che ne sapevano della vita, come qualcuno può andare a domandare, a chiedere, comunque per farla breve, la memoria, sì, benissimo.